allora gli interventi del panel sono praticamente conclusi però ci sono alcune persone che avrebbero piacere di condividere con noi il loro pensiero chiamerei vincenzo scarano si è ancora in aula qui con noi in sala qui con noi che il coordinatore nazionale del lanci per i rapporti con le regioni non c'è più ecco abbiamo purtroppo non ci abbiamo fatto allora l'altra persona che voleva con noi parlare di qualcosa era adele tramontano direttore della scuola di formazione roma capitale per cui lo inviterei la inviterei scusi ho avuto un attimo di vuole parlare da lì benissimo assolutamente